Sì, io ho terminato, ho fatto la sesta e ora ogni volta che c'è la seconda o la terza ne approfitto per fare l'allenamento, perché l'allenamento è più efficace se si fa tutti assieme. Divertente anche? Anche sì, poi se no da sola dopo un po' non mi annoio, ma insomma è meno stimolante e devo dire che i risultati si vedono, non mi misuro, non mi interessa misurarmi, però vedo che effettivamente comprendo e riesco a leggere nello stesso tempo più pagine, quindi per me è eccezionale, davvero non trovo parole per descrivere.